eccoci qua ciao ragazzi bentornati su questo canale che da un po' che è inattivo come mai cos'è successo? cos'è successo? è successo che siamo stati in quarantena questo canale parla soprattutto di viaggi e noi sul divano non è un viaggio no no ma non siamo stati tutto il tempo sul divano cioè siamo stati comunque a casa ma attivi perché in questo periodo se ci seguite soprattutto sugli altri social avete visto che abbiamo fatto un po' di cosette nuove oltre al rewind abbiamo anche aggiornato il nostro sito lanciato tutta una nuova sessione sessione sezione che riguarda i nostri viaggi non ci sono ancora tutti tipo l'Australia non c'è perché è troppo grande è ancora un progress vi invitiamo a dargli un'occhiata e poi abbiamo fatto anche altre cosine altre cosine abbiamo dovuto sostituire il computer perché si è rotto ma col computer nuovo abbiamo iniziato anche a fare delle cose nuove che non vediamo l'ora di mostrarvi per adesso non possiamo dirvi niente è una cosa che non possiamo dire esplicitamente perché se no casini è che abbiamo iniziato anche delle live sul social viola in descrizione trovate tutto sì sono live in cui si chiacchieremo sabrina non si può parlare sul viaggio col tubo di questa cosa facciamo analisi di profili instagram e questo è più uno shout out che un'analisi qua si vede subito la foto epica di video youtube bello belli lì c'era un frame nero hai fatto i compiti andre questo è un corpo ricette che vengono male e cose di questo genere ma passiamo del tempo insieme passiamo del tempo insieme perché se ne apriamo un altro c'è la ripresa dell'aeroporto ma l'aeroporto scena a caso di aeroporto ragazzi non ha senso che senso ha un aeroporto è un aeroporto nel senso tutti l'abbiamo visto e nessuno ci vuole spendere del tempo ma siamo qui oggi da casa nonostante tutto perché vi portiamo un video che vi abbiamo promesso tipo un anno e mezzo fa ormai due quasi ed è il video su come montare video di viaggio finalmente ci siamo ora premesse premesse siamo qui perché ovviamente siamo pronti a mostrarvi tutto a schermo sì il video che prendiamo ad esempio è il video del nostro viaggio in corsica quello che abbiamo fatto nel 2018 e vi faremo vedere come praticamente montare quel video si tratta di un tutorial entry level quindi per persone che magari hanno fatto un viaggio hanno registrato cose senza avere in mente uno specifico storytelling una musica delle inquadrature specifiche avete fatto delle riprese a caso ci sta o volevate soltanto immortalare i momenti più belli magari con una gopro magari col vostro telefono con qualsiasi cosa avevate a disposizione va benissimo questo video è per voi esatto quindi come montare queste clip in un video in musica quindi non un vlog che si aggira intorno ai tre minuti ora i risultati possono essere già molto alti ma questo dipende anche dalla qualità delle clip detto questo prima di entrare nella fase 1 iniziamo con una fase 0 una piccola di nuovo premessa per il programma di montaggio noi stiamo utilizzando premiere è indifferente il programma noi utilizziamo questo perché abbiamo il pc perché ci troviamo bene abbiamo sempre utilizzato questo e va bene così ma anche se avete final cut anche se avete da vinci anche se avete degli altri programmi che magari noi neanche conosciamo è uguale dovrebbe andare bene perché sono comunque tutti tagli unire musiche cose semplici sì non ci sono effetti speciali per cui bisogna usare programmi specifici per appunto creare questi effetti esatto detto questo ragazzi partiamo fase 1 fase 1 la mia quindi ti devi levare levati facciamo un passaggio schermo prima levati fai il passaggio schermo mentre ti levi ok accendiamo la camera se no perché se non ci si vede vai cosa si fa allora cosa si fa prima di tutto voglio il mio mouse questo è quello di joe e questa è la mia mano è più grande il mouse della mia mano e non riesco a usarlo quindi per prima cosa si recupera tutto il materiale eccolo qua questi sono i nostri sette giorni li abbiamo divisi tutti carini e spero l'abbiate fatto anche voi perché altrimenti se avete doppioni cose del genere potreste trovarmi incasinati e si importano tutti e poi ci si prende un caffè ora dopo i nostri vari minuti di attesa abbiamo importato tutti i file quanti minuti dipende da quanti file avete e quanto questi file sono pesanti creiamo la sequenza a questo punto noi facciamo così di solito prendiamo una clip e la draghiamo qui e questa è la sequenza il problema è che in questo momento visto che questa clip era una clip a 50 fps sulla sequenza vengono riportati le caratteristiche della clip quindi anche questa clip è una clip in 1080 ma 50 fps a noi la sequenza serve invece a 25 fps 25 24 30 ok questo è un video entry level non andremo a spiegarvi perché di questa cosa ma fidatevi in questo momento vanno usate queste queste sequenze quindi si clicca qui sequence settings eccolo qua appunto il video è 1080 ma qui non va bene quindi questo è 50 noi facciamo 25 voilà ok e questa è la nostra sequenza giusta non iniziamo dal day 1 perché in day 1 abbiamo una sola camera abbiamo girato solo con la 7s volevo farvi vedere un esempio in cui abbiamo girato con più prendiamo la cartella la draghiamo qui e lui importa tutte le clip ora qui mi chiede è in inglese ma mi chiede se voglio convertire la sequenza per farla matchare con le clip quindi per riportarla a 50 fps no l'abbiamo appena cambiata quindi keep existing settings tieni le impostazioni che ci sono già queste sono tutte le clip girate con la 7s stessa cosa con la gopro la prendo la sposto qua ora per la gopro avevamo dei settaggi particolari e ci ha registrato degli avvi in più cancelliamo di questi cancelliamo questi audi uniamo queste clip e coloriamo le clip registrate con una con la gopro di un colore diverso mettiamo caribbean e infine il drone importiamo anche il drone eccole qua il drone legge le importa già di un altro colore questa cosa serve perché le diverse camere girano con colori diversi e quindi poi riconoscerle subito immediatamente nella sequenza alla fine quando si farà la color correction sarà più semplice perché appunto per ogni camera va fatto una color correction diverso ovviamente se avete girato tutte con la stessa camera questo passaggio non mi interessa ora invece cominciamo effettivamente a tagliare le clip questa è la fase che noi chiamiamo premontato quindi dobbiamo tenere di tutto questo girato solo le parti buone vediamo insieme quali sono le parti buone ora io di solito metto muto perché in questo caso l'audio non ci interessa visto che che faremo un montaggio in musica non ci interessa tenere le parti d'audio quindi questa clip che è una prova la cancelliamo direttamente via questa che è un vlog anche questa non serve perché sarà un montaggio in musica quindi via di nuovo andiamo su una clip dove c'è una ripresa paesaggistica questa per esempio cominciamo a guardarla dall'inizio e vediamo di tenere solo la parte buona qui la camera si muove già sta ancora aggiustando l'inquadratura ok da qui no qui qui sembra che comincia ad esserci un movimento di camera effettivamente fatto con cognizione di causa sono tutti fatti con cognizione di causa nei movimenti quindi partiamo voilà tutto il pan fino a qui qui il movimento di camera finito e c'è questo svirgolo questo svirgolo già si toglie voilà spostiamo in alto la parte buona e continuiamo così ovviamente per per darvi una mano potete spostare il cursore sulla clip così vedete già quali sono le parti migliori e voilà tiriamo su anche questo ora clip così lunghe difficilmente troveranno spazio all'interno del montaggio per tutta la loro lunghezza io comunque le tengo tutte perché non so quale parte della clip si sposerà bene in montaggio con la clip precedente la clip successiva o effettivamente la musica magari alcune clip potrebbero essere velocizzate ci potrebbero essere dei time ramping quindi io tengo per ora tutta la parte buona perché non abbiamo ancora scelto la musica in teoria e quindi non so neanche quale sarà il ritmo del video se mi servono riprese molto dinamiche e corte se mi servono riprese paesaggistiche lunghe e molto calme per ora io le prendo entrambe e le tiro su quindi quando scelgo la parte buona della clip voilà due e si alza stop quando la telecamera qui si ferma in questo caso stop alzo poi queste clip quelle che non ho scelto le seleziono e le cancello e queste clip saranno da poi da riordinare quelle scelte bene dopo avervi risparmiato ore e ore di selezione clip questo lavoro veramente lungo e tedioso infatti di solito non viene fatto alla scrivania abbiamo tutte le clip selezionate voilà per ora sono in ordine cronologico quindi esattamente come erano nella timeline le ho lasciate non ci sono solo le clip più belle ci sono anche clip come questa della nave o qualche mangio non sono necessariamente le clip più cinematografiche ma sono anche le clip che mi serviranno poi per raccontare una storia visto che questo è un montaggio in musica e non un blog quest'ordine potrebbe essere un po poi lungo da navigare quindi riordino tutte le clip per tematiche come faccio facciamo così creiamo un nuovo item un color matt ok a caso gli diamo un colore a caso ok l'importante qui è il nome primo oggetto lo chiamiamo nave ok mi ha creato questo oggetto 9 io lo metto qui lo allungo in modo che venga sia visibile la scrittina nave e poi comincio a mettere qua sotto tutte le clip della nave questa no sarà poi la lascio un attimo da parte perché sarà poi una clip diversa che sarà pasti nave 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 voilà macchina di nuovo new item color matt ok voilà a caso macchina quindi macchina 1 macchina 2 questo è già mare questo è un timelapse è stato studiato per essere un timelapse e io l'ho già velocizzato non sono sicura che questa sarà poi la velocità finale che già userà in montaggio però l'ho già velocizzato in modo che non mi occupi un mezzo metro nella timeline quindi è un timelapse dell'entroterra l'ho sposto sotto la sua etichetta e vado avanti così bene anche questo lavoro è abbastanza lunghino quindi ci vediamo tra ora ora che il premontato è praticamente finito quindi cosa c'è qui ci sono tutte le clip divise per categorie le categorie non sono tantissime c'è la nave ci sono i pasti c'è la macchina il mare l'entroterra la città e gli animali comunque vedete che ci sono sopra delle clip che ho alzato sono quelle che ritengo più belle o più cinematografiche oppure come questa della macchina oppure che comunque ritengo siano importanti particolarmente importanti per raccontare la storia quindi ad esempio ok questa qui questa è particolarmente bella perché passa il gabbiano e quindi l'ho evidenziata tirandola su il mio lavoro è praticamente finito per ora a parte quello di consulenza quindi lascio la parola a Joe ed eccomi qui ragazzi cambiato di maglietta cambiato un attimo setup ci siamo riabbassati questo perché è passato qualche tempo da quando Martina ha terminato abbiamo fatto altre cose ma eccoci tornati ora appunto cosa succede in questo momento io prima di tuffarmi proprio nell'editing riguardo tutto il premontato che ha fatto Martina prima di tutto per capire lei che tipo di categoria ha scelto come ha già strutturato quello che poi sarà il video finale in modo che abbiamo più o meno la stessa lunghezza d'onda ma poi soprattutto per andare a rivivere un po' tutto il viaggio anche se ok l'abbiamo vissuto di persona in questo caso dovremmo già avere in mente però fa sempre bene tornare un po' su quell'estate in Corsica e quindi ripensare tutti quei momenti questo perché adesso arriva una fase fondamentale ovvero la scelta del brano musicale allora sia chiaro sin da subito essendo questo un video montaggio in musica quindi non è un vlog dove voi chiacchierate ma sono soltanto immagini montate sopra un brano musicale è fondamentale che il mood del brano musicale sia in linea con il mood del video e non parlo soltanto di far mecciare l'estate in Corsica con una bella musica estiva ma anche le vostre riprese la qualità delle vostre riprese deve essere in linea con la musica che proponete quindi se avete tutto un video fatto con GoPro e riprese super shaky non potrete metterci una musica super orchestrale cinematografica perché deluderete le aspettative di chi sta guardando il video quindi mi raccomando fate molta attenzione a questa fase perché è l'errore più comune che vediamo quando analizziamo i vostri video in live li commentiamo insomma vedere una musica che non c'entra assolutamente niente con il viaggio il mood dà proprio un senso di amatoriale e che rovina assolutamente tutto il progetto ora il primo scoglio da superare è cercare di capire se vi serve una musica copyright free oppure no dunque noi vi diciamo se è il vostro primo video e volete avere totale libertà creativa allora utilizzate pure una musica anche famosa come Poker Face di Lady Gaga che ne so attenzione però perché se volete caricare il video online molto probabilmente avrete dei problemi sicuramente non potrete monetizzare il video inoltre potrebbe esservi bloccato in determinati paesi o addirittura rimosso dalla piattaforma se volete evitare ogni tipo di problema allora cercate la musica copyright free e dove andiamo a trovare la musica copyright free noi utilizziamo tre fonti principali la prima che in realtà non utilizziamo più ma l'abbiamo utilizzata tantissimo ad esempio per l'Australia è la libreria di YouTube YouTube infatti sulla sua piattaforma ha una libreria abbastanza vasta totalmente gratuita di brani musicali che potrete utilizzare per i vostri video senza alcun tipo di problema noi non la utilizziamo più perché comunque i brani sono abbastanza basic talvolta vogliamo spingere un po' di più perché adesso le nostre riprese sono a un livello abbastanza alto da poter richiedere dei brani un po' più strutturati bene le altre due fonti che utilizziamo in realtà non hanno musica copyright free ma ci permettono di acquistare la licenza di utilizzo quindi sono due fonti a pagamento la prima è Epidemic Sound che ha un piano mensile ed è fatta soprattutto per chi carica video sui social quindi se siete creatori di contenuti come noi va benissimo la musica è decisamente di alto livello avete la possibilità di scaricare gli stemi quindi soltanto la traccia dei drums soltanto la traccia della melodia quindi potete fare anche dei giochini molto molto avanzati il contro pro di questa piattaforma è che in caso vogliate vendere il video ad un cliente quindi se un cliente vi commissiona un video voi in realtà non potete utilizzare la stessa licenza che voi state pagando per vendere appunto il vostro video a terze parti questo perché la licenza che vi dà Epidemic Sound è collegata soltanto ai social che voi collegate ed è il vostro canale youtube o se no il vostro instagram quindi se volete poi dare il vostro video a un'altra persona dovrete pagare un'ulteriore licenza commerciale che può costare anche parecchio ora se invece siete creatori di contenuti principalmente per terze parti allora vi consigliamo Artlist noi utilizziamo anche questo sito perché comunque la scelta musicale è ampia è molto valida ma soprattutto vi rilascia la licenza non solo per voi ma anche per terze parti quindi finché siete voi a montare il video allora potete darlo a chiunque questa funziona annualmente sono tipo 200 dollari e vi consigliamo di farla solo se fate una decina di lavori pagati all'anno quindi se siete proprio amatori allora forse andate con Epidemic Sound di mese in mese altrimenti sì vale la pena fare Artlist soprattutto appunto se vendete i video a qualcun altro in descrizione vi lasciamo il link per le due piattaforme facendovi sapere che per Epidemic Sound abbiamo una prova gratuita di 30 giorni che volendo potete poi annullare al 29esimo prima che l'abbonamento entri in vigore invece per Artlist pagando un anno quindi 12 mesi avrete due mesi in più gratuiti quindi grazie se seguite il link perché poi supportate anche noi ma dopo tutto questo parlare di musica dove abbiamo preso noi il brano per questo video ebbene alla fine della fiera non utilizzando nessuna di queste piattaforme perché gli Obos in Dust ci hanno concesso l'utilizzo del loro brano della loro traccia per questo video appunto quindi in realtà sì potete fare anche questo prendere accordi diretti con dei musicisti ovviamente è meglio che sia tutto scritto ebbene dopo tutto questo discorso sul dove andare a trovare la musica vediamo anche come sceglierla vogliamo darvi qualche consiglio pratico quindi innanzitutto va scelta la durata va individuata la durata di quello che sarà poi il nostro video definitivo per un video in musica noi cerchiamo e consigliamo di stare sempre sotto i 3 minuti volendo anche i 2 minuti e mezzo questo perché dopo un po' l'attenzione di chi guarda si abbassa e quindi rischiate che clicchi su X o che comunque si stia annoiando e non piaccia il contenuto se poi individuate una traccia che dura 6 minuti e volete usare per forza quella allora vedremo dopo come poterla tagliare in maniera smart per farla durare comunque poco detto questo abbiamo già parlato di come in realtà anche le vostre riprese che avete già premontato tagliato e tutto debbano un po' condizionarvi nella scelta del brano sia per quanto riguarda l'epicità quindi la qualità delle riprese debbano un po' rispecchiare la qualità del brano ma anche e soprattutto per il mood di nuovo se avete fatto riprese per 7 giorni in Islanda sotto la pioggia non scegliete una musica Tropical House perché non ha assolutamente senso ma allo stesso modo se il vostro stile di ripresa è uno stile di riprese veloci che quindi richiedono tagli veloci allora anche la musica deve avere un ritmo veloce al contrario se invece fate tante riprese lente e paesaggistiche molto rilassanti di conseguenza anche la musica dovrà avere un ritmo un po' più lento ovviamente il top sarebbe scegliere un brano che ha sia momenti di ritmi un po' più alti e frenetici che ritmi un po' più lenti e descrittivi però appunto bisogna cercare tanto 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 messe sul tavolo tutte queste linee guida principali diciamo che la fase di scelta della musica si può ritenere conclusa fatevi guidare un po' anche dal cuore ecco per questa fase musica scelta passiamo adesso alla ciccia alla fase di editing di montaggio e di costruzione di tutto il nostro video abbiamo qui la nostra Gone Away degli Obos in Dust e prima di toccare la minima clip noi ci facciamo un'ascoltata ovviamente ma l'abbiamo già ascoltata in fase di ricerca di tutto il brano per cercare di capire il brano come è strutturato abbiamo detto che il nostro video deve raccontare una storia beh generalmente anche le canzoni raccontano una storia e allora ci facciamo aiutare dalla struttura che già è presente all'interno della musica per poi costruire la struttura del nostro video quindi io qua ho costruito non lo faccio mai lo faccio mentalmente però per rendere molto più chiara anche a schermo ho costruito la struttura del brano c'è la fase iniziale dove c'è semplicemente l'introduzione strumentale quindi dove semplicemente la musica suona e il cantante ancora non sta cantando boom prima strofa quindi qua inizia a cantare di conseguenza c'è già l'inizio di un racconto sia per la musica di nuovo che per quello che poi noi andremo a raccontare in video c'è tutta la strofa e poi parte il ritornello il ritornello essendo forte deve corrispondere a una parte forte anche in video quindi delle belle riprese oppure delle riprese un po' più energiche un po' più significative ecco magari l'arrivo dopo un percorso quindi ritornelli sono quel tipo di riprese lì dopo il ritornello riparte la strofa c'è poi il ritornello ripetuto per due volte e poi c'è quello che viene definito special che è semplicemente una parte che è diversa da quello che è stato sentito finora in questo caso è una parte più lenta quindi una parte un po' romantica lenta ecco che noi andremo ad utilizzare con delle riprese di conseguenza lente dopo questa prima fase di special lo special parte con un crescendo sempre maggiore che arriverà poi al ritornello che viene ripetuto due volte verso la fine e poi al finale che semplicemente in questo caso è molto molto brutale semplicemente dopo la fine del ritornello la musica boom va a chiudersi boom semplicemente poi c'è il fade out questa è la struttura ora noi sappiamo già in realtà qualcosa di quello che andremo a piazzare ovvero nell'introduzione strumentale andremo sicuramente ad inserire la nave quindi come noi siamo arrivati in Corsica l'inizio del brano è anche l'inizio del nostro viaggio quindi semplicemente andiamo a mettere qui in tutta questa fase la fase della barca andiamo a sceglierla eccoci qua allora tutte queste sono le clip della nave che vado a prendere ctrl x e ctrl v in questo caso taglio e incollo perché so già che tutta la nave dovrà risolversi in questa fase iniziale allora abbiamo queste riprese che sono proprio la salita sulla nave la parte di mare all'alba la parte di ciminiera come si chiama quella parte della nave? non lo so le scialuppe insomma l'arrivo poi effettivamente in Corsica aiutiamoci anche capendo quanto dura a livello di battute questa fase quindi partendo dalla prima questa è la prima battuta segniamola con un marker M e da qua le contiamo 1 1 2 3 4 5 6 7 e 8 ovviamente le musiche generalmente quelle perlomeno commerciali quelle più diffuse sono fatte da 8 tempi poi ovviamente non bisogna per forza seguire questo andamento si può essere anche un po' più creativi però iniziamo a segnarcelo così ci aiutiamo ecco appunto qui abbiamo abbiamo detto 8 battute 1, 2, 3, 4, 5 riprese quindi sappiamo che o facciamo durare più di una battuta la singola ripresa o se no riduciamo il tempo della nave aggiungendo già magari l'inizio dell'on the road perché comunque è stato un viaggio on the road in Corsica quindi inseriamo la nave e poi andiamo a recuperare anche qualcosa della macchina ad esempio questa ripresa dato che adesso abbiamo la possibilità di scegliere io la eviterei perché comunque non è fantastico a livello proprio cinematografico vedere che si sale su una nave è bello magari iniziare con l'alba che comunque l'alba segna l'inizio di un qualcosa della giornata ma in generale può segnare l'inizio anche di un racconto quindi alba in barca va benissimo la facciamo durare va bene fino a qui facciamo così questi otto tempi li facciamo durare quattro per la barca e poi quattro per la macchina di modo che abbiamo l'inizio già strutturato così qui andiamo a mettere il ciminiera chiamiamolo ciminiera perché non so come si chiama quindi poi il taglio ovviamente lo andiamo a fare esattamente sul punto i marker sono stati fatti a orecchio e sono leggermente sbagliati aiutatevi con i picchi qua della traccia audio per vedere esattamente dove deve iniziare mettiamo questa ciminiera fino a qui e qui andiamo avanti con si ci stiamo avvicinando alla costa alla città che è Bastia e quindi inseriamo in questo caso essendo la barca un po' lenta in fase di attracco va molto piano questa invece che tagliarla la possiamo velocizzare quindi o così con tasto destro speed duration e lo facciamo a numeri oppure per farlo in maniera più precisa selezioniamo questo tool e andiamo a ridurla fino a qui così si velocizza in automatico della percentuale giusta lo stesso facciamo con questa che è stata registrata già col pensiero di farci poi un timelapse Martina l'ha velocizzata già al 200% ma adesso la velocizzeremo per farla arrivare fino a qui quindi di nuovo questo tool e accorciamola fino a qua esatto ora abbiamo la nostra introduzione con la barca quindi ok il viaggio inizia siamo su una barca e stiamo attraccando in Corsica adesso andiamo a prendere la macchina perché si siamo attraccati in Corsica ma iniziamo anche a viaggiare quindi clip della macchina che sono queste combinazione sono 4 ci va molto molto bene CTRL V allora qui in realtà non inserisco questa perché la macchina è veramente troppo troppo piccola la tengo da parte posso fare un giochino con questa ovvero fare dato che c'è il tan 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 fare una sorta di jump cut lungo tutta questa fase per arrivare al finale il jump cut vuol dire che io taglio qui poi taglio qui e attacco qua c'è un altro tamburo taglio qui e attacco qui c'è un altro tamburo allungo un po' taglio qui e attacco fino ad arrivare a qua vediamo com'è esatto e adesso che inizia la strofa può iniziare il nostro racconto di noi che andiamo a esplorare la corsica quindi piano piano adesso andremo a scegliere le clip che magari sono clip di camminate di noi che stiamo esplorando luoghi stiamo cercando di raggiungere una destinazione che poi si svelerà nel ritornello o comunque appunto vediamo piano piano come si costruisce per questo video tutorial adesso non stiamo a fare tutto il procedimento facciamo così andiamo a prendere quello che noi abbiamo ottenuto come risultato finale lo analizziamo in qualche punto saliente per vedere insieme quali sono state le scelte quindi andiamo ed eccoci quindi nella fase finale dove appunto andiamo ad analizzare tutto ho recuperato la sequenza finale rincollando però tutti quelli che sono i marker che abbiamo fatto noi per la musica per capire appunto quello che abbiamo costruito noi sulla musica in questo modo è tutto più facilitato allora prima che la musica inizi in realtà abbiamo messo un'altra clip con il titolo piccola parentesi su questa cosa non è obbligatorio farlo noi l'abbiamo fatto perché questa ripresa ci piaceva particolarmente abbiamo fatto una cosa del genere mettendo la scritta in semitrasparenza appunto abbiamo fatto il titolo abbiamo fatto in modo che con un sistema di blend quindi metodo di fusione overlay si fondesse e poi piano piano abbiamo mascherato la scritta dietro di me quindi vedete che piano piano si maschera in modo che non si vede quando io ci passo sopra è una cosa carina che abbiamo fatto appunto per contestualizzare il video c'è il titolo di youtube d'accordo però insomma avevamo questa ripresa in più e ci sembrava carino fare una cosa del genere attenzione se volete farlo noi ve lo consigliamo da una parte perché comunque contestualizzare con un titolo fa bene ma dovete farlo anche bene nel senso che se poi mettete un titolo scritto in times in roman o peggio ancora in comic sans a caso allora piuttosto non fatelo piuttosto non mettete niente nessuna scritta perché sennò peggiorate quello che è il vostro intento e qui sotto poi ci abbiamo messo anche un audio di mani che padlano che nuotano in acqua quindi è fatto a regola d'arte sentite che c'è appunto il rumore dell'acqua e ci sono le mani che fanno chaff chaff va fatto bene se va fatto il sound design è importante durante il video ci sono delle altre parti in cui abbiamo tenuto comunque l'audio che abbiamo registrato in camera non abbiamo fatto un sound design molto molto potente primo perché comunque la musica già è bella presente e bella forte secondo perché appunto non volevamo esagerare abbiamo tenuto di nuovo i suoni che noi stessi avevamo registrato andiamo a sentire e vediamo appunto analizziamo tutto il video la struttura come abbiamo portato il racconto del viaggio in Corsica l'introduzione l'abbiamo vista abbiamo aggiunto qui il suono della ciminiera che poi sono andato a cercare in realtà si chiama fumaiola quindi bene questa fase poi siamo arrivati a se vedete il layer 3 spento è il layer color che per adesso appunto teniamo spento perché va fatta alla fine dalla macchina poi siamo passati boom con uno zoom all'inizio della strofa quindi l'inizio del racconto come ci siamo detti noi che iniziamo ad esplorare la Corsica in questo caso c'è Martina che sta passeggiando il perché di questa transizione è presto detto la macchina entra in un tunnel d'alberi con uno zoom rispuntiamo alla fine di un ipotetico tunnel e vediamo cosa succede ovviamente non è lo stesso tunnel è chiaro però idealmente c'è questo tipo di continuità Martina è alla scoperta di questo luogo sta piovendo sentite in sottofondo un pochino di rumore di pioggia di nuovo è stato registrato tutto lì mentre stavano facendo le riprese è un suono naturale molto debole dopo questa fase c'è un timelapse perché è stato inserito un timelapse perché dopo la pioggia abbiamo detto va bene dato che è stato soltanto quel momento di pioggia durante tutta la settimana ok da qua inizia il sole quindi facciamolo vedere timelapse con le nuvole che si muovono e poi parte la scena nella stessa location con Martina con l'ombrello chiuso in mano e effettivamente la giornata assolata quindi continuiamo con la nostra giornata assolata e lo facciamo non solo vedere con i fiori il sole ma anche con i suoni di questa estate in Corsica quindi abbiamo tenuto i suoni in sottofondo delle cicale dei grilli durante una ripresa che in realtà poi è stata rallentata l'audio ovviamente non va rallentato nella maggior parte dei casi perché sennò altrimenti si distorce tutto quindi sempre Martina che passeggia e stiamo per avvicinarci poi al ritornello quindi piano piano questa è solo una strofa è soltanto un racconto di noi che andiamo a esplorare e qua stranamente c'è una mucca ma in realtà l'abbiamo messa perché il ritornello poi presenta degli animali ma l'abbiamo messa perché anche le parole della musica dicono he walked away on this road qualcosa del genere quindi ha camminato sulla strada e di conseguenza ci sembrava carino mettere una mucca che cammina sulla strada e ce l'avamo proprio di fianco alla macchina quindi prosegue così e va al ritornello dove invece le riprese adesso devono essere molto epiche devono essere molto forti quindi ok quindi c'è la mucca ci sono tagli veloci per seguire la musica sempre con delle mucche poi c'è un cavallo nella stessa location ma poi panorami panorami qua abbiamo fatto uno zoom digitale che viene indietro per rivelare tutta questa montagna e piano piano poi arrivano altre dronate che sono quelle poi riprese epiche in mezzo alla natura I was gone away qui abbiamo messo semplicemente Martina perché è una ripresa simpatica ma perché poi quando riprende la strofa riprende Martina a camminare nella stessa location nella stessa giornata quindi per dare un po' di continuità tra la fine del ritornello e l'inizio della strofa la seconda strofa prosegue con la stessa struttura quindi andiamo ad esplorare la corsica abbiamo visto delle cascate sempre le cascate una transizione tra una cascata di questo tipo mentre un'altra cascata dove un tizio si stava buttando a fare canyoning noi in quest'anno nel 2018 non l'abbiamo fatto l'abbiamo fatto nel 2016 molto bello il canyoning e abbiamo seguito nella piscinetta naturale piscinetta nella bella piscina naturale della stessa cascata dove si fa canyoning con noi che semplicemente stavamo facendo il bagno stessa location ma un po' più giù sul fiume io che sto per buttarmi l'acqua qui era gelata e sta per iniziare un ritornello quindi anche qua tagli in jump cut seguendo la musica per arrivare a una transizione molto carina che vi consigliamo di fare se avete modo di fare diversi tuffi ovvero questa tuffo boom nel momento in cui la GoPro entra in acqua transizione in un'altra location sott'acqua quindi in questo caso noi siamo veramente al mare e io sto notando sott'acqua sto semplicemente esplorando ritornello qui le riprese diventano più che super potenti dal punto di vista cinematografico diventano molto divertenti quindi molto energiche quindi io che vado a esplorare sott'acqua siamo al mare questa è la stessa spiaggia noi che giochiamo con il materassino quindi eccoci qua ok quindi il ritmo della canzone qui è molto energico molto felice e di conseguenza le riprese lo sono altrettanto qui poi abbiamo fatto uno zoom indietro perché da boom dalla spiaggia veniamo via ovviamente non è la stessa location però idealmente veniamo via dalla spiaggia per inquadrare poi lo scenario del mare con gli scogli un po' di dronate ecco qui appunto ci sono questa serie di riprese allora dronata che gira verso destra dronata che gira verso destra dronata che gira verso destra ma poi ci siamo noi di schiena di schiena di schiena di schiena ok abbiamo cercato di dare questo tipo di continuità per entrare nello special che abbiamo detto è un po' più lento di conseguenza anche le riprese devono rispecchiare un po' questo andamento ed ecco che effettivamente lo fa quindi slow motion riprese lente però sempre di esplorazione quindi andiamo effettivamente nelle città corse a vedere un po' cosa c'è ok qui inizia la seconda parte di special quella che piano piano cresce e porterà al ritornello finale vi avevo detto che a un certo punto vi avrei mostrato come tagliare in modo intelligente la musica ed è quello che abbiamo fatto anche in questo caso perché realmente la musica dura tanto così dura otto battute nello special in crescita noi in realtà l'abbiamo tagliata per farla durare quattro battute in meno per tagliare a metà questo special in crescita come ho fatto allora fortunatamente la musica è matematica quindi appunto sono otto battute che si possono dividere in quattro e che se è suonata in maniera semplice non so bene come definire perché non ho studiato musica però si può sentire il uno due ok però ci sono questi tun 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 che abbiamo ritrovato sia durante tutto il montaggio che qua ritroviamo sempre fino alla fine dello special finché non parte il ritornello e ho deciso di utilizzare questi come taglio netto da eseguire quindi io mi sono messo dopo la prima battuta inizia la seconda prima di fare iniziare la terza ho eseguito il taglio qui vedete che si riporta sotto e poi allora io adesso ho tagliato una cioè sono partito dalla prima sono arrivato alla seconda quindi sono due battute devo arrivare a quattro battute in totali di conseguenza terrò le due battute finali e taglierò dal tun 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 prima che iniziano le due battute finali in questo modo ho dimezzato le otto battute e le ho fatte diventare quattro vediamo se ha senso quello che ho detto pam 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 questa parte la cancello e questa parte la unisco vedete che questa traccia è quella che poi abbiamo ottenuto alla fine che è questa ok questa cosa funziona bene in questo caso perché la struttura dello special è abbastanza semplice c'è un piccolo crescendo dove poi anche la chitarra entra e piano piano cresce però diciamo che non si sente così tanto da da farlo vedere in questo taglio in altre in altre tracce in altri brani invece dovete stare un po' più attenti dipende sempre dal brano che avete sotto mano arriviamo ora alla fase finale dove dopo tutta questa crescita che noi abbiamo utilizzato mostrando un po' di riprese sia paesaggistiche quindi dronate pam 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 riprese veloci sempre di quelle location qui invece poi abbiamo cambiato quindi da qui siamo passati a qui questa non è una transizione molto azzeccata devo ammetterlo probabilmente questo qui era un buco che dovevamo riempire non sapevamo come riempirlo può capitare nel senso che sì a volte rimane solo ok come cosa mettiamo qui vabbè facciamo in modo da di continuare da questa torre e andare da questa dronata e poi la passeggiata non c'è un vero motivo non è super efficace però la accettiamo per questa volta da qui c'è Martina che passeggia tra i ristoranti e quindi si passa al tema del cibo e l'abbiamo utilizzato mostrando molto velocemente tutte le fasi in cui abbiamo effettivamente mangiato quindi così ok quindi tan 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 anche qui il suono del chin è originale vedete voi quando vale la pena mettere o non mettere i suoni sotto se c'è qualcosa che volete sottolineare anche con un suono allora sì altrimenti deve essere proprio un accompagnamento come la pioggia di prima si sentiva ma in realtà non era così tanto predominante rispetto alla musica cercate di essere abbastanza leggeri da qui poi dal tema cibo siamo ripassati più o meno al tema cibo con un picnic sulla spiaggia e di conseguenza poi di nuovo immagini di mare immagini di paesaggi con un crescendo piano piano sempre noi che andiamo a esplorare per poi arrivare ai ritornelli finali pam 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 questo è un po' vibrante perché è un hyperlapse che poi abbiamo stabilizzato nella versione finale sarà super bella appunto hyperlapse perché comunque è una ripresa molto molto forte che ci sta con l'inizio di un ritornello e poi paesaggi 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 ecco una cosa che non vi ho ancora detto è che ad esempio vedete qui questi tagli veloci sono riprese quasi fisse ok perché sono talmente tanto veloci che se voi fate una ripresa in movimento con un taglio che dura letteralmente uno due tre quattro cinque sei frame uno non fa in tempo a ragionare a capire cosa sta succedendo invece se sono quasi delle fotografie con pochi elementi semplici il cervello riesce a stare dietro quindi ok è chiaro che sono tutte chiese campanili magari non si capisce bene che qui c'è una macchina parcheggiata non importa è solo per far capire contesto culturale di chiesa torre torre e poi qua riprende una ripresa un po' più lunga di nuovo se dovete fare dei tagli brevi selezionate delle clip super super semplici quasi statiche ma anche molto minimaliste per la composizione arriviamo alla fine con il ritornello finale paesaggi bellissimi pam 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 e questa questo finale in uscita che in realtà generalmente è bello mettere un finale in uscita che vola se avete il drone verso il dietro in realtà qui stiamo andando avanti perché volevamo un po' far capire che questo video fosse un invito a vedere poi tutti i vlog che abbiamo realizzato in Corsica quindi in realtà noi qui stiamo andando avanti oltrepassando questa questo cumulo di rocce della montagna per arrivare verso il panorama un po' anche per far capire che il viaggio può continuare per chi sta guardando da qualche parte dove con la handcard poi adesso qua è tutto staccato nella handcard potete mettere guarda qualcos'altro insomma potete invogliare chi ha guardato il video a fare qualcosa ecco e quindi siamo andati in avanti c'è poi la fase finale che è la fase di color correction o color grading allora noi ve la facciamo molto molto semplice questa perché si tratta di un tutorial entry level come abbiamo detto quindi non vogliamo fare cose super super avanzate andiamo ad accendere i nostri adjustment layer i nostri livelli sui quali abbiamo applicato la color noi utilizziamo ops noi utilizziamo il lumetri color vedete che le riprese qui sono state girate con un profilo flat in slog in questo caso perché sono clip della sony è stato applicato il lat e poi fatte delle modifiche dove necessarie quindi abbiamo trasformato la clip poi veramente in una bella clip colorata secondo il mood che ritrovamo opportuno in questo caso pioveva quindi va bene tutto un po' grigione cioè non bisogna colorare cose che non esistono mentre in questo caso che c'era un po' di sole è giusto che sia un po' calda ecco come abbiamo detto all'inizio i colori qui sotto ci aiutano ad identificare velocemente il tipo di color che va applicato queste qua blu sono le sony e quindi abbiamo applicato il lat dedicato alle slog queste viola sono del drone quindi abbiamo applicato il lat dedicato al drone queste sono della gopro e quindi abbiamo applicato il lat dedicato al logo pro forse questa non è neanche la versione finale perché mi pare che il bianco sia un po' bruciacchiato però insomma ci siamo capiti la color è semplicemente una regolazione dei livelli di colore ovviamente ma anche di luci ombre insomma tutta una fase che in questo tutorial però non trattiamo quindi direi che possiamo arrivare in chiusura Marti torna qui che salutiamo i ragazzi ciao perfetto allora avvicinati amici cari allora video lunghissimo d'accordo siamo tutti d'accordo su questo ma sapete che ci piace essere il più completi possibili anche se poi alla fine non ce l'abbiamo fatta perché mancano alcune cose appunto la color potrebbe essere spiegata meglio ma è una fase un po' più avanzata abbiamo voluto tenere questo video il più basic possibile per già darvi delle nozioni iniziali e realizzare comunque qualcosa di molto molto bello ci siamo dimenticati dell'export in realtà ah sì vai fai vedere l'export molto semplicemente se utilizzate Premiere ctrl m per andare a esportare utilizzate h264 e poi utilizzate il preset di youtube 1080 e il gioco è fatto andate a esportarlo e caricatelo sulla piattaforma super easy ora quindi abbiamo detto tutto direi per questo video ovviamente si possono fare cose più complicate non spiegheremo in questa sede e in questo video quali perché non è il caso però vi consigliamo di partire appunto da queste cose semplici che possono essere avete visto già molto efficaci questo è un video comunque che è stato poi usato anche dal lente del turismo non è il filmino delle vacanze che non lo vuole vedere nessuno e si possono fare questi bei video anche senza andare a imbegolarsi con strane transizioni o cose super elaborate o cambi di musica repentini cose di questo genere cercate di partire da qualcosa che sia semplice e cercate di padroneggiare le regole basi quindi la storia storytelling prima cosa se non c'è la storia ragazzi tutto il resto cade quindi molto importante non c'è bisogno di fare grandi cose avete visto noi siamo arrivati in Corsica con la nave abbiamo iniziato il nostro on the road già da un senso di storia cosa siamo lì a fare cosa stiamo facendo non c'è bisogno fare grandi cose non c'è bisogno di partire dall'aeroporto si può anche evitare di partire dall'aeroporto seguire la musica quindi quando la musica ha un certo ritmo date anche voi un certo ritmo alla vostra storia scegliete ovviamente la musica in base al ritmo che volete dare al vostro video e al mood che volete dare il vostro video e soprattutto il tempo non saremo mai abbastanza chiari su questa cosa a quanto pare perché sui video che analizziamo in live ci sono sempre montaggi da almeno sei minuti io non so la gente dopo due minuti e mezzo si è rotta le balle quindi tenete il video sotto quel minutaggio ovviamente se volete farlo vedere ad altri se invece volete tenerlo per voi come volete dovremmo essere veramente alla fine allora se il video vi è piaciuto vi invogliamo a lasciare un commento anche linkando il vostro video che avete realizzato dopo aver visto questo tutorial così che vediamo un po' i lavori che svolgete se invece avete bisogno di consigli su come migliorare la qualità delle riprese ci sono due video uno dove spieghiamo come fare dei timelapse e uno come spieghiamo proprio come migliorare la qualità delle riprese senza comprare attrezzatura nuova sono accorgimenti anche quelli molto basici ma li abbiamo fatti li abbiamo elencati perché sono errori che vediamo continuamente quindi applicate tutto vi lasciamo tutto in descrizione e niente ci vediamo al prossimo video sperando che il prossimo tutorial non arrivi tra altri due anni sperando che il nostro prossimo video sia un viaggio anche volendo sai sarebbe anche ora bene che tristezza ciao 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 Grazie.